Grazie per essere qui questa sera, noi siamo arrivati veramente così, essendo arrivati quasi alla fine della stagione non potevamo chiudere in maniera migliore una combinazione questa sera che unisce due generi che hanno fatto una fusione, parleremo dopo e spiegheremo bene dopo, l'unica cosa che c'è da accoglierli veramente con un grande applauso perché abbiamo qui con noi Diego e Cristina Olorum assieme, tra l'altro l'hanno portato loro, The King, di Mambo King, signore e signore, Mr. Eddie Correza! Grazie a tutti! 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 Vi vogliamo nuovamente qua, qua c'è dell'acqua se volete, così vi do, tanto spiego un po', così vi do anche il tempo di prendere il fiato. Voglio sentire l'applauso del Caribe! Vi riteniamo qui con noi naturalmente in vista c'è dell'acqua qua se volete, così intanto riprendete fiato con calma Cristina, tanto io dico un po' di robe, intanto, cosa volevo dire, vabbè io ne approfitto finché loro si riprendono un attimo arrivano, questo non è l'ultimo appuntamento del Caribe, ci sarà anche, credo, venerdì prossimo, quanti ce ne sono ancora? Due, due, io passerò il testimone al Tigre DJ che è qua con noi questa sera, perché io sarò da un'altra parte, prima prendo il volo 15 giorni, poi l'estimo sarò da un'altra parte e tornerò a settembre, quindi volevo cogliere l'occasione, finché loro riprendono fiato, di augurarvi buone.